Abbiamo ricordato con una lapide un amico di Romeo Menti allo stadio di Vicenza che è Armando Frigo, un ex giocatore di Vicenza Calcio che lasciò la squadra il gioco per andare da volontario nell'esercito, combattere per la patria nell'esercito regolare e fu ucciso dai nazisti proprio perché difese i propri uomini mantenendo i gradi di ufficiale. Un sacrificio umano che noi vogliamo ricordare sia per ciò che rappresenta rispetto al contrasto nei confronti di tutti i totalitarismi in occasione anche di un 25 aprile festa di libertà che festeggeremo domenica mattina a Villa Guiccioli. Vicenza si prepara dunque a celebrare la festa della liberazione, lo stile adottato e volutamente all'insegna del rispetto dignitoso delle vittime degli orrori del nazifascismo come quelle di tutti i regimi dispotici. Dopo l'annuncio a gennaio dell'arrivo delle prime pietre di Inciampo Vicentina in ricordo di Guido Fortunato Oriveto e della moglie Angelina Caivano, vittime di Auschwitz, l'amministrazione comunale prosegue con le iniziative di condanna contro i crimini delle tirannie a partire proprio dal prossimo 25 aprile. In occasione del quale porteremo anche un altro passaggio importante fatto dal Consiglio Comunale all'unanimità, il riconoscimento e il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre che è diventata nostra concittadina nel Consiglio Comunale nelle ultime ore e che avremo modo di festeggiare anche dopo questo 25 aprile consegnandole questo conferimento speciale da parte della città di Vicenza.